Sono circa 4.000 gli extracomunitari maggioranza senegalesi che risiedono e lavorano a Pescara con regolare permesso di soggiorno. A loro si rivolge la consulta degli stranieri e per loro verranno organizzate le elezioni per scegliere il nuovo consigliere aggiunto. Si andrà alle urne il prossimo 29 di ottobre ripristinando una figura già esistente nel capoluogo adriatico a cui però non è stata data continuità negli anni. Saranno quattro le liste che si sfideranno nella competizione democratica divise per area geografica. Per presentare le liste dovranno essere raccolte tra le 50 e le 100 firme. I candidati una sessantina in totale andranno a comporre un organo destinato ad essere un raccordo tra l'amministrazione e le esigenze degli extracomunitari favorendo così l'integrazione sociale. Saranno fatte quattro liste per varie aree del mondo quindi area africana, paesi dell'est, area australe e america e in ogni lista potranno presentare dei candidati che possono andare da 3 a 15 e quindi sarà una votazione non elettronica come era stata fatta l'altra volta su delle schede e verranno eletti 14 consiglieri più il consigliere aggiunto che fa parte della consulta. Questo è importante perché è un filtro, possiamo dare voce a delle persone che finora purtroppo sono state penalizzate da questo punto di vista, sono persone che lavorano, badanti, persone residenti a Pescara, persone che contribuiscono al PIL dell'Italia quindi rappresentano circa il 5-6 per cento della popolazione quindi è una fetta abbastanza importante.